ebbene amici parlando di arte siamo l'esposizione della pittrice Milena Petrarca iniziato a Sabaudia dal 30 giugno all'11 luglio prossimo ebbene diamo qualche dato della pittrice Milena Petrarca è nata a Pozzuoli nel 1950 ha compiuto gli studi artistici a Napoli dove ha conseguito il titolo di maestra d'arte titolare di figura disegnata dal 1971 attualmente insegna figura disegnata presso il liceo artistico statale di Latina svolge la propria passione di pittrice e scultrice presso lo studio di via Isonzo numero 108 veniamo anche ad alcune delle esposizioni della pittrice nel 1989 presso la galleria d'arte moderna San Luca ha tenuto una personale con opere nuove estremamente ricche di grazia poetica e di magia sia nel segno che nel colore nel giorno 24 marzo 90 su invita della Zonta International Club Latina ha tenuto una mostra personale a scopo benefico presso l'hotel Tirreno di Latina nel giorno 30 maggio sempre del 1990 è stata invitata dal Kiwans International Europe distretto Italia club di Napoli dall'associazione internazionale Magna Grecia alla galà di consegna del premio nazionale solidarietà come rappresentante pittrice paesaggista napoletana numerose sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero a tal proposito ricordiamo che le opere alcune opere della pittrice di Milena Petrarca sono state acquistate da eminenti personaggi del mondo della politica statunitense ad esempio dal governatore dello stato di New York Mario Cuomo che secondo molti come ben sapete potrebbe essere il prossimo presidente degli Stati Uniti e a tal proposito la pittrice è stata anche invitata per recarsi nei prossimi mesi ancora a disporre le proprie opere proprio a New York e l'invito gli è giunto dalla Accademia degli Stati Uniti. La dote che più colpisce in chi ha il piacere di imbattersi nella pittura di Milena Petrarca è quel suo investire gli oggetti rappresentati di un fascio di luce solare che si rifrange nei colori più vivi assecondando ed esaltando le loro virtù espressive. Una solarità quella di Milena Petrarca che rivela candore e capacità di stupire, immediatezza di rapporto, gioia di comunicare, qualità umane che rifuggono da ogni interno utilitaristico e che rimandano alla bellezza solare ed avvincente della sua terra natia non a caso cantata dagli antichi come Campania Felix. Ricordiamo che Milena Petrarca è un'artista che ama le calde tonalità cromatiche su un disegno a tutto tondo ricco di riferimenti allusivi che evocano dolci stati d'animo e riposti finimenti interiori eppure è capace di sublimarsi dinanzi al bianco di un foglio o di una tela. Allora benvenuta qui a New York, welcome to New York, welcome to celebrate you, thank you. Allora siamo felicissimi di averti qui fra noi a New York, è un onore, è un privilegio per tutti noi e adesso ammiriamo questi magnifici quadri, tutti unici, tutti speciali. Sono le domande a lei perché è importante sapere, no? Ma io volevo sapere come maestra, come era piccolina. Ha cominciato da piccola, sapevi di fingersi. Ho 13 anni, 13 anni, tra l'altro, sì. Fantastico. Ho un'opera che si chiama Il Fanciullo. Il Fanciullo, eh. Partecipavo con persone adulte, hanno scelto il mio uno schizzo. Uno schizzo di 13 anni. Gli altri portavano i oli, invece ho vinto con uno schizzo dal vero. No. Il mio primo premio, sì. Ma primo di quello... Ho fatto delle sculture piccole di ritratti. In qualcosa, in legno? Creta, in Creta. In Creta, lavoravo in Creta, eh. In Creta, voglio. Ok. Auguria per il lavoro. Sì, sì. Vieni sicuro, vieni. Ah, che brava, eh. Questo è il principio. Ecco, questa è la prima mostra. Sì. Questa sarà la seconda, la terza, la quarta, capito? È vero, è vero, è vero. Se lo merita, è molto brava. Ah, bravissima l'artista. Brava, molto brava. Gabbissima. E se tu non puoi venire qui, noi andiamo a Napoli. Melina, questa è la stella, della notte. Eh, brava, brava, brava. Dimmi, Toni, come l'hai conosciuta? Come l'ha scoperta questa grande pittrice? Come hai fatto a scoprirla? Come l'hai scoperta questa grande pittrice? L'ho scoperta perché ho visto la magnificenza del lavoro. Ok. Un lavoro magnifico, l'hai visto subito, eh. Non mi ricordo quando ho visto l'energia e la qualità. Subito, eh. La visione, c'è la visione. Una delle persone ha scritto che il lavoro è penetrante, penetrating. 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 That's right. That's the idea, Penetrating. Brava Milena, brava. Brava. Magnifica. Pag. Pag. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.